Sì, domani ci presenteremo in pochi, siamo abbastanza rimaneggiati, però speriamo che tutti quelli che prenderanno parte alla gara siano all'altezza, io ritengo di sì. In realtà, nonostante il risultato, perché siamo riusciti a vincere 3-0 lì, credo che abbiano fatto una bella partita anche all'andata, però purtroppo per loro condita da errori difensivi. Nel giro nei ritorno sono forse la squadra dopo il Picenno che ha fatto più punti, forse anche più gol di tutti, perché mi pare che ne abbiamo fatti due a partita nel giro nei ritorno, quindi sicuramente la squadra più in forma, giocano bene, l'unico punto a nostro favore in tutto ciò è che, a differenza delle ultime squadre che hanno giocato qui, sono una squadra che non tende a difendersi, ma se la gioca a viso aperto, quindi avremo sicuramente anche noi le nostre possibilità di far gol. E di continuare a essere tra le grandi, ormai che ci siamo, manca poco e sarebbe un delitto non continuare a farlo, e noi stiamo provando a migliorarci ancora giorno dopo giorno e spero che per un altro mese sia così e di riuscire a portare i risultati che meritiamo. Per me cambia poco perché comunque so che anche quando è a casa vede le nostre partite, quindi ci tengo sempre a far vedere che la squadra gioca a calcio. Ovviamente averlo di presenza è diverso per la squadra e spero che anche per questo motivo vogliono mettersi particolarmente in mostra come già hanno fatto in allenamento. Grazie. Grazie.